ciao fiorellini, speriamo che mi legge la batteria perché c'è solo due sacchette di cosa neanche l'ho caricato va bene io adesso ne inserà la sita poi vi farò vedere cosa abbiamo comprato oggi pomeriggio sempre lo stesso giorno però è di pomeriggio ecco sono ritornata allora siamo andati a caffur di nebi per comprare delle cose e siamo andati a risparmio casa prima cosa che vi faccio vedere a caffur perché è uno spin non le vendono a pepsi vediamo vi posso far vedere la pepsi pepsi una bottiglia due bottiglie questa è senza zucchero e questa è al limone poi si è comprata si è aperta una scatola di tinta per farci la tinta rachele gliela farò io e una cosa aspettante una busta c'è un'altra busta poi si è comprato la verdura questa sera guardino questo c'è lo scontrino dove vi farò vedere se si sa pure ah pure i libri hai comprato pure i libri questo è il libro qua e questo è il libro qua poi si è preso i pochi 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 ok questo qua i mantarini ecco ce la faccio a fare l'aranchi diciamoci perché sta allanteggiare vediamo che legge qui ha speso 4 euro e 29 e l'acqua levissima poi poi risparmio casa ma pure quello ci sta risparmio casa abbiamo comprato questo qua facciamo veloce il bastone però non so dopo già sta a scaricare batteria questo qua questo e questo per prenderlo per terra e i faccioletti questo qua oddio quanta roba non faccio il tempo il caffè le buste mappi quanta roba c'è questo qua questo qua per far profumare i panni che dove mi sta mischiando questo qua per tiappare il colore una e due per lavare i piatti questo qua per fare quando ti dà i tendi c'ha questo qua e basta ciao fiorellini fiorellini sono ritornata porto la cosa di casa e il mio cerchietto carino con i brillantini perché la flaccetta ce l'ho lunghissima ma arriva qua giù mi sento a fastidio allora mi metto il cerchietto così va bene siccome si era scaricata prima la batteria non ho finito il video allora dovevo farvi vedere lo scontrino di Rachele 14 euro 73 che lei aveva comprato manico della scopa poi fox assorbetti vabbè gilette glad spray mix e valido vetri valido pavimenti io invece ho speso di più perché ho comprato più cose tanto che a me ci stanno i punti e i suoi no solo uno può farlo io ho comprato i pellet perché fino a domani non posso andarlo a prendere per scaldarci oggi ho preso il pellet che ho trovato 9 euro 80 centesimi poi le slat offerta ace rotolone tutte queste cose qua ho speso 53 euro e 90 centesimi ok poi vi voglio farvi dire un portafoglio che mi ha regalato racchiere e una borsa che mi sono comprata allora questa borsa me la sono comprata oggi perché me l'aveva prestata la pietra più piccolina allora c'ha due manici così poi c'è questa cosa qua la copra cilese 12-13 euro 12-13 euro con la cosa così e c'è la crisura lampo dietro e è fatta così davanti ma è più comode le borse perché non c'è spazio se non su quell'altro qua avanza e vota e su quell'altro no poi ci avevo metto rotto il portafoglio ragazzi si capisce l'aveva due questa sera comprato per lei e al compleanno gli avevano fatto stesso portafoglio però questo è un po' più grande allora sì qua ci vanno i soldi spicci la cosa bella che si apre sia di qua per le tessere e sia di qua per le tessere qua e oddio vabbè per cascare i soldi solo per cascare i soldi si è aperto di qua e di qua beh è bello questa cosa mi piace perché ci posso mettere più tessere e si vede meglio vabbè e cascate tutti i soldi spicci cascate i soldi spicci vabbè ora li raccolgo e comunque questa borsa c'ha la saccoccia qua e c'ha tutto questo spazio qua perché io ci leggo le caramelle i fazzoletti sull'altro non mi entrava un'altra caramella la mochina le gocce per gli occhi per me e basta non è che però sull'altra cosa non mi entrava la roba e tutte le volte che tiravo fuori una cosa era rischio che cascava un portafoglio cascava però questo mi piace troppo perché è comodissimo l'ho trovato un'altra cinese uguale è comodissimo mi piace tantissimo e poi è abbinato pure un po' alla borsa è rosa questa io tengo sempre questa cosa qua perché si deve vedere il portafoglio che prendo quel tipo di pasticca perché per dire il sangue va bene comunque mi sono comprata la borsa nuova dopo due mesi che mi serviva io sono riuscita e va bene adesso vi posso lasciare perché finito questo video e ciao al prossimo video come che ha fatto noi vediamo se mi chiama quello lì per gestare la macchina ancora non mi ha chiamato domani che sarebbe il 2 perché questo qua l'ho registrato il primo vado a prendere l'annuncio del cuore quando ho finito a fare i viaggi vado a civita e vado a vedere cosa dice quello lì perché domani io posso portare la macchina e vabbè io comunque adesso vi lascio non vedo l'ora non mi riescono i capelli fammeli a caschetta almeno e vabbè io ho finito questo video spero che vi è piaciuto ciao al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti